Con la presentazione di stamane in Regione è scattato ufficialmente il conto alla rovescia per l'edizione 2024 della Valtellina Wine Trail. Come Regione Lombardia abbiamo sostenuto, questa è l'undicesima edizione, abbiamo sempre creduto in questo evento, l'abbiamo sostenuto ora e vogliamo sostenerlo anche in futuro, anche perché il riscontro sia sul territorio sia a livello internazionale è sempre più alto. I numeri parlano da soli, all'appuntamento sulle tre distanze 12, 21 e 42 km di sabato 9 novembre sono attesi 3600 atleti, dei quali circa 500 stranieri provenienti da 51 nazioni. È un evento sportivo, ma gli sportivi percorrono i terrazzamenti evitati da Valtellina che di per sé sono un monumento. Presenti alla manifestazione anche Davide Menegola, presidente della provincia, Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, ed Elio Moretti, presidente del CDA di APF, l'azienda di promozione e formazione di Sondrio, che ha svelato come la Valtellina Wine Trail da quest'anno entra nell'ambito dell'Education Program Gen26 di Milano Cortina. Gli studenti valtellinesi potranno così vivere un'esperienza formativa a stretto contatto con la parte organizzativa dell'evento e comprendere il lavoro e l'impegno necessari per la sua realizzazione. Un'altra novità attenderà gli atleti all'arrivo, una tensostruttura che ricoprirà l'intera piazza, statua di Garibaldi inclusa.